Grazie a Vezzano. Grazie a Vezzano. Un lavoro che sarà proposto alla cittadinanza di Vezzano e questa coalizione che dal primo minuto ha detto sarà una coalizione inclusiva aprirà a tutte le sensibilità delle città. Da questa sera anche coloro che hanno perso e che avevamo chiamato fino a un minuto fa avversari sono i nostri concittadini. Grazie a tutti quanti voi. Capriere! 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 Capriere